Buonasera, stiamo attraversando la fase critica del maltempo. Il maltempo è iniziato alcuni giorni fa sul nord Europa, poi si è portato sull'Europa centrale, ora interessa non soltanto questi paesi a nord delle Alpi, ma tutti i paesi dell'area Mediterranea. L'Italia è tra le regioni più colpite e lo rimarrà più o meno nel corso delle prossime 48 ore. È atteso in un certo senso un miglioramento a cominciare dal giorno 27, con alterne vicende, poi andrà avanti così fino al giorno 28 o 29. Ma la fase, ancora ripetiamo, di maltempo più crudo è quella attesa non tanto domani, che si verificheranno delle schierite, almeno sulla parte occidentale, sulla riviera di Ponente, sull'Alto Tirreno, sulla Sardegna, quanto il peggioramento sulle regioni d'Italia e in parte sulle regioni centrali nella giornata di Santo Stefano. Allora ecco tutta la immensa nuvolosità, le Alpi sotto coperte di neve, ha nevicato anche a cote basse sulle regioni settentrionali, localmente sulla pianura padana, dove le temperature durante la notte erano sotto zero. Andiamo a vedere i valori delle temperature minime. Il confronto è fatto con i dati della terza rega del dicembre. Gli aumenti sono dipesi dalla copertura del cielo e dai forti venti di Scirocco. Qualche diminuzione, vedete com'è a Cagliari, soltanto di 3 gradi. È attesa invece una diminuzione su tutta l'Italia, magari anche se lieve, nel corso delle temperature minime della notte. Vediamo i valori delle ore 13, anche qui, qua e là, delle diminuzioni o degli aumenti, forte l'aumento di Ancona, una temperatura che sembra primaverile addirittura, ma si tratta soltanto di una fase estremamente transitoria. A Bolzano invece diminuita notevolmente la temperatura. Andiamo avanti e vediamo la carta del tempo tutto schermo. Allora vedete in Atlantico si profila un'altra perturbazione che affronta la Francia e dalla Francia questa perturbazione seguirà sulla stessa traiettoria della prima di quelle che sta interessando adesso le regioni meridionali della nostra penisola. domani avrà raggiunto il Mediterraneo centrale e l'Europa orientale, però rimane un tempo instabile in attesa di un ulteriore peggioramento della perturbazione che sto delineando. Vediamo allora il tempo di domani. Poi se facciamo in tempo, guardate il gioco di parole, vedremo quello del 26. Allora domani è attesa qualche schiarita sulla parte nord-occidentale e sull'alto Tireno. Per il resto è nuvi e forte condizioni di tempo perturbato sul sud e sul centro d'Italia, essenzialmente dal Molise verso sud. Anche contemporanei di forte intensità e colpi di vento. Il 26 ecco il peggioramento che inizia già a fondo da domani pomeriggio sulla Sardegna, su tutta l'Italia, in modo particolare sulle Tre Venezie e poi scendendo su a sud, sul meridione d'Italia, molto perturbato. Vento e mari abbiamo concluso, bisogna pure vederlo, i venti sono molto forti o agitati, quelli di sabato sono anche validi per quelli di domenica, un forte maestrale naturalmente o a mari agitati. È tutto, vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buon Natale.